Benvenuti nel nostro nuovo canale, dedicato a questa splendida arte che è la pasticceria. Nei nostri video vogliamo mostrarvi, tra le altre cose, la preparazione dei dolci tipici cosentini. Io sono Alessandro Chiuto e sono onorato di presentarvi mio padre, Franco, noto pasticcere da oltre 60 anni, e mia figlia Ilaria. Sono contento di aver trasmesso a mio figlio la passione per la pasticceria e a mia nipò Ilaria. Vogliamo così cogliere l'occasione per presentarvi un tipico dolce cosentino, i turbilli. In questo video vi mostreremo la loro preparazione. Benvenuti e buona revisione. Prima di vita l'acqua che lavavi, poi lì, poi lì, poi lì, e lo mio cuore si rinchiuda morì, poi lì, poi lì, quando le panna la si pallandavi, poi lì, poi lì, poi lì. Tu metti un bucaturi, poi lì, poi lì, poi lì, poi lì, che la prisella mia, che la prisella mia. Mmmmm. 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 Mmmmm.